Sono sette gli avvisi di garanzia notificati dagli inquirenti ad altrettanti tra dirigenti e tecnici della Esplodenti Sabino. Gianluca, Sabino, Massimo e Marco Salvatore, Carlo Piscopo, Giustiniano Tiberio e Barbara Palestini. Un avviso di garanzia bis per molti di loro già finiti sotto la lente degli inquirenti per l'incidente del 2020. Le ipotesi dei pubblici ministeri Silvia Dinunzio e Vincenzo Chirico sono cooperazione colposa in omicidio colposo e disastro colposo aggravati per la morte, poco dopo mezzogiorno, degli operai Fernando Dinella, Giulio Romano e Gianluca De Santis. A ucciderli in circostanze al vaglio dei carabinieri l'esplosione di una granata di artiglieria pesante. Uno dei tre stava maneggiando la spoletta con la polvere da sparo. Imminente anche la sospensione della licenza da parte del prefetto Mario della Cioppa. Intanto, nello stabilimento di Casalbordino hanno lavorato per tutto il giorno i carabinieri del RIS, il reparto investigazioni scientifiche, per chiarire la dinamica dell'incidente. Con loro, anche i militari del nucleo operativo ecologico verificheranno eventuali violazioni ambientali. Lunedì è fissata l'autopsia del medico legale Pietro Falco sui corpi delle tre vittime. Grazie. Grazie. Grazie.